Che messaggio vuole lanciare a questi ragazzi? La Costituzione non è una cosa astratta, non è un testo giuridico, ma un po' una bussola. Attraverso la Costituzione noi conosciamo il passato, ma non è una conoscenza a fine se stessa. Serve un po' per guidarci nel presente, ma soprattutto per guardare al futuro. Studenti del polo liceale Luigi Illuminati di Atri a Scuola di Diritti e Doveri. Fa tappa nel Terramano, il viaggio nelle scuole della Corte Costituzionale. A dialogare con gli studenti, il giudice Filippo Patroni Griffi. State girando l'Italia, dai vostri incontri, che fotografia emerge delle nuove generazioni? Una generazione meno disinteressata di quello che comunemente si dice, forse un tantino spaisata. Direi che quindi forse il compito di chi in qualche modo si trovi nelle istituzioni sia proprio quello di dare qualche punto di riferimento e far sì che la generazione di oggi, anzi di domani, abbia un impegno e che non sia, come diceva un vecchio libro, un impegno spaisato, ma un impegno consapevole. Citazione dello scrittore Giorgio Van Straten, che diventa un monito a mettersi in gioco, a fare la propria parte, a sostegno della legalità.